Due medici ginecologi all'epoca dei fatti in servizio all'ospedale Rizzoli di L'Acquameno, Marco Sant'Agata e Vincenzo Stefanelli sono stati condannati con rito abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli. Il primo si è visto infliggere una pena di due anni e sei mesi di reclusione senza benefici di legge, il secondo di un anno e quattro mesi. Entrambi erano accusati di lesioni e falso ideologico a seguito di un drammatico episodio che si verificò il 2 settembre 2017 presso il presidio sanitario ischitano, quando venne alla luce il piccolo Francesco Pio, che però, a seguito di una serie di manovre ritenute errate e dunque di una condotta dolosa degli imputati, riportò danni neurologici irreversibili. Ottengono dunque giustizia i genitori del piccolo Maria Teresa Trofa e Francesco Diotalleri, che si erano rivolti all'avvocato Roberto Iacono, per far valere le proprie ragioni. In precedenza era stato condannato nel dicembre 2023 a Ischia con rito ordinario anche l'OSS Giuseppe Palmieri, per lui otto mesi di reclusione. Erano invece uscite assolte dal processo due ostetriche che avevano eseguito le disposizioni impartite loro senza poter opporre di niego e che dunque, per questo motivo, non potevano essere ritenute responsabili.